In patec ho avuto il Gastro Festival in Lissé nad Labem. Ho avuto una grande premiera, ho avuto un po' prima di vivere, con Manuele Rydim. Ho avuto l'ososa, che mi ha chiesto, quindi se potete sapere mi la ricetta. Mi sento immediatamente che momentaneamente sto da solo e per cantare in coro il presupposto necessario mi sembra anche normale che ci sia più di una voce.